Insomma, che cosa volete? Io sto solo cercando di guadagnarmi da vivere e voi continuate a darmi fastidio! Ratchet e Clank, giusto? Sentite, se non ve ne tornate nella galassia da cui siete venuti vi ridurrò in tanti di quei pezzi che per contarli dovrete... Beh, sarete ridotti in mille pezzi, ve lo posso assicurare! Quindi alzate subito i tacchi e non provate più a cercarmi, capito? Perché io ho il vento! Cioè, io sono come il vento ed è impossibile sapere dove apparirò! Soffio molto forte! Passò a infrescare una torri da giornate estima! Beh, ho reso l'idea, no? Addio per tanti!